Buon pomeriggio da Sicilia 24, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in primo piano, partendo da Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un pusher, il quale è stato trovato in possesso nella sua abitazione di oltre 7,5 kg di marijuana. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dello spaccio, personale della sezione antidroga della locale squadra mobile ha eseguito una perquisizione all'interno di un appartamento posto nel rione San Cristoforo che era nell'esclusiva disponibilità dell'uomo. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto all'interno dell'abitazione gli operatori hanno rinvenuto otto buste sigillate in cellofan trasparente contenenti marijuana per un peso di oltre 7,5 kg. In ragione dell'ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, chiaramente destinato a essere messo in commercio, il soggetto è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Il procedimento è ancora in corso e sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario anche nell'interesse dell'indagato. Cambiamo argomento ma continuiamo a parlare di cronaca. Si avvalsa della facoltà di non rispondere Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, arrestata lo scorso venerdì per associazione mafiosa. La donna, sentita dal GIP per l'interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, era assistita dall'avvocato Daniele Bernardone, La mia assistita è in buone condizioni compatibilmente con la sua situazione, ha dichiarato illegale. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle frasi che la sua assistita avrebbe detto ai carabinieri dopo l'arresto, la donna avrebbe sostenuto che la sua famiglia era perseguitata dalla giustizia, l'avvocato Bernardone ha risposto, sono aspetti che non attengono la difesa, precisando poi che ogni valutazione e prematura dista la fase del tutto preliminare delle indagini. Torniamo nel catanese, notizia da Randazzo, dove i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato delle armi, due fucili che erano sotterrati in un terreno in uso al boss Sangani. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno denunciato per detenzione illegale di armi e munizionamento e detenzione di arma clandestina Salvatore Sangani, elemento apicale dell'omonimo gruppo criminale. L'uomo risulta attualmente detenuto nell'ambito della recente operazione dei carabinieri Terra Bruciata, la quale ha consentito di monitorare le evoluzioni delle dinamiche associative del clan Laudani, individuando proprio in Salvatore Sangani, inteso Turi, il referente nell'area di Randazzo per Paolo Di Mauro, apicale riferimento finché invita dei Laudani per l'intera fascia ionico-etnea, nonché di documentare i reati fine strumentali al sostentamento dell'associazione mafiosa, tra i quali si pongono in evidenza le estorsioni ai danni di imprenditori del catanese, un fiorente traffico di cocaina, ascis e marijuana, un ingente traffico illecito di armi di diverso genere anche da guerra e il controllo capillare e asfissiante di solide attività economiche, anche imponendo l'assunzione di alcuni sodali del clan in quelle ditte. Qualche giorno fa i militari operanti, supportati da quelli dello squadrone riportato cacciatori di Sicilia e dalle unità cinofile dell'arma, nell'ambito di un'attività info-investigativa volta a contrastare il traffico di armi sul mercato nero della criminalità catanese, hanno controllato palmo a palmo un terreno in località Contrada, Dagala, Longa, a Randazzo. L'area in questione che si trova nel Parco dell'Etna ed è sottoposta a vincolo paesaggistico risulta da decenni nella piena disponibilità dei sangani, i quali, come emerso nel corso delle indagini di terra bruciata, la utilizzavano fino al momento del loro arresto per il pascolo abusivo di bestiame e il ricovero di quest'ultimo in fabbricati eretti senza alcuna concessione edilizia in quella stessa area, ma anche per svolgere incontri finalizzati a stabilire le attività illecite da compiere, nonché per occultarvi armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Nella circostanza i carabinieri nel corso delle serrate ricerche sono riusciti a recuperare in un fossato coperto da pietra e nei pressi di un ricovero abusivo per pecore due fucili con matricola a brasa calibro 12 in perfetto stato d'efficienza trovati insieme ad otto cartucce del medesimo calibro. Le armi erano appunto nascoste in buste di plastica unitamente ad un contenitore di olio per lubrificarle e mantenerle funzionanti e ad una tessera telefonica plastificata priva di sim card ma riportante a un'utenza telefonica intestata ad un familiare dell'indagato. L'armamento è stato sequestrato e sullo stesso saranno svolti gli accertamenti tecnico-balistici per verificare se sia stato utilizzato in pregressi delitti avvenuti sul territorio. Notizia da Palermo o meglio dal porto di Palermo dove sono state sequestrate ben 54 tonnellate di pellet. La merce non era in regola. Tutti i dettagli nel servizio. I militari della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell'ufficio delle Dogane di Palermo, hanno sequestrato al porto del capoluogo siciliano 54 tonnellate di pellet stipato in due container provenienti dall'Egitto e destinato a una società della provincia palermitana. Dal confronto tra le caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto riportate nella dichiarazione di importazione con le risultanze delle analisi effettuate attraverso il Laboratorio Chimico Territoriale delle Dogane ed eseguite a campione sulla merce, è emerso che si trattava di pellet di legno per riscaldamento domestico di classe A2, non particolarmente performante in termini di potere calorifico e livello di ceneri prodotte e non di classe A1, con caratteristiche di qualità merceologiche più elevate, come falsamente dichiarato. Pertanto la merce è stata sequestrata e il responsabile denunciato per il reato di immissione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con segni mendaci. A Catania i carabinieri hanno effettuato dei controlli in città alle attività commerciali e nelle zone della cosiddetta movida e sono scattate diverse sanzioni. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dal XII Reggimento Sicilia, con la collaborazione dei colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania e la polizia locale, sono stati impegnati in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel centro storico e in particolare in zona Castellorsino, Corso Italia, Corso delle province e nell'area della movida del centro per il contrasto allo spaccio di droga. I militari dell'arma, nell'ambito dei controlli preventivi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, hanno proceduto a diverse ispezioni presso attività di ristorazione del centro. Al termine dei controlli effettuati, presso una trattoria nei pressi di Piazza Università, il titolare, un 61enne catanese, è stato segnalato alla competente autorità sanitaria per le carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali della predetta attività. Analoghi controlli effettuati dai militari all'interno dei locali di un'attività di ristorazione ubicata in Piazza Federico di Svevia si sono conclusi per il titolare, un quarantenne catanese, con una sanzione amministrativa elevata per un importo di 1.000 euro. I carabinieri, in particolare, hanno riscontrato la presenza di un locale di fatto adibito a deposito senza la prevista comunicazione all'autorità competente. In tale contesto operativo, i controlli su strada e le contestuali perquisizioni hanno consentito di denunciare un diciottenne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in particolare, è stato trovato in possesso di otto dosi di marijuana nascoste nella tasca del giubbotto per un quantitativo complessivo di 10 grammi di droga sottoposti a sequestro. Per lo stesso reato, i carabinieri hanno denunciato un ventenne catanese poiché è stato sorpreso mentre in strada cedeva una dose di marijuana del peso di 2 grammi a un acquirente. Un 23enne di Mister Bianco e un 21enne catanese sono stati invece trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e pertanto sono stati segnalati quali assuntori alla locale prefettura. I carabinieri, nel medesimo contesto operativo, unitamente al personale della polizia locale, hanno effettuato controlli finalizzati al contrasto della sosta selvaggia nelle zone di Corso Italia e Corso delle province. Al termine di tale attività sono state elevate 25 sanzioni per violazioni al codice della strada per un ammontare di 1.500 euro e la contestuale rimozione di 7 veicoli. I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari dell'arma hanno consentito l'identificazione di un centinaio di persone, il controllo di un'ottantina di veicoli con l'elevazione per violazioni riscontrate al codice della strada per un ammontare di oltre 3.000 euro e il contestuale sequestro fermo amministrativo di due veicoli. Un pusher minorenne è stato invece arrestato ad Acireale, nella Catanese. I carabinieri della stazione di Acireale, in collaborazione con i colleghi della stazione di Aci Sant'Antonio, hanno tratto in arresto in flagranza un minore 17enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, i carabinieri, beneficiando di un pregresso lavoro info-investigativo, hanno attenzionato i movimenti di un giovane perché da loro sospettato di aver intrapreso un'attività di spaccio di droga utilizzando come base la propria abitazione acese. Il giovane, poi identificato nel 17enne, è stato individuato dai militari dell'arma che lo hanno osservato proprio mentre entrando e uscendo più volte dalla propria abitazione avrebbe verosimilmente effettuato delle cessioni di sostanze stupefacenti. In particolare, il ragazzo è stato notato dai militari mentre brevemente si intratteneva a parlare con una ragazza sopraggiunta a bordo di una minicar, la quale ha poi parcheggiato il suo veicolo davanti all'abitazione ed effettuato quindi una telefonata verosimilmente al 17enne il quale, uscito da casa, le ha consegnato un involucro ricevendo in cambio una banconota da 20 euro salvo ancora rientrare in casa e uscirne per consegnargli una banconota da 10 euro evidentemente il resto. I carabinieri pertanto dopo aver assistito a un'ulteriore cessione di stupefacenti questa volta un 17enne giunto a piedi sono intervenuti proprio nel momento della consegna della droga bloccando i due minorenni e constatando che il pusher aveva ancora nelle mani una banconota da 50 euro un attimo prima consegnatagli dal suo acquirente coetaneo il quale a sua volta è stato trovato in possesso di una dose di marijuana che ne ha determinato da parte dei carabinieri la sua segnalazione alla locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti la perquisizione poi estesa presso l'abitazione del 17enne ha fornito ulteriori riscontri ai carabinieri che sono stati comunque guidati in casa proprio dal 17enne convintosi ormai a collaborare per limitare i danni in particolare in una scatola riposta su un comodino della sua camera da letto i militari hanno trovato altre 20 dosi di marijuana già confezionate singolarmente 126 bustine in plastica monouso con chiusura ermetica la somma di 65 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio nonché tre bilancini di precisione il 17enne è stato posto dai carabinieri a disposizione della competente autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo per lui il collocamento presso una comunità alloggio per minori lucio di mauro ci parla invece del primo trofeo dell'etna l'hotel nettuno di catania ha ospitato la cerimonia di premiazione del primo trofeo dell'etna l'evento organizzato dall'automobile club catania e dall'automobile club acireale ha visto la partecipazione dei piloti e dei team sportivi protagonisti di alcune tra le gare più suggestive del circuito etneo il trittico di cronoscalate dell'etna ovvero la cronoscalata giarre montesalice milo la cronoscalata catania etna e la cronoscalata lingua grossa piano provenzano sono contentissimo per aver vinto il primo trofeo dell'etna ringrazio tantissimo tutto il mio team la mia famiglia la mia ragazza tutti quelli che mi supportano il mio unico sponsor il naselli group e la scuderia catania corse che mi permette di partecipare a tutte le gare del trofeo dell'etna e non solo il prossimo impegno è la prima gara l'equo glossa fine aprile iniziamo da lì e speriamo di iniziare bene come abbiamo fatto l'anno scorso siamo riusciti a portare in porto il primo trofeo dell'etna legato a quelli che sono le cronoscalate le velocità in salita della catania etna lingua grossa piano provenzana e già remonte salicimilo sono tre eventi spalmati su tutto il territorio etneo e che grazie a questo evento automobilistico l'obiettivo è quello di fare coagulo e di promuovere appunto il territorio abbiamo parlato oggi di catania etna per l'automobile club di catania è una questione primaria anche perché l'anno prossimo faremo spegneremo le cento candeline della catania etna e quindi ci teniamo particolarmente anche perché non solo come manifestazione sportiva ma perché manifestazione del nostro territorio perché riporteremo l'automobilismo sportivo sulle pendici dell'etna e non soltanto perché sono catanese ma è uno spettacolo unico che possiamo offrire ai turisti e che possiamo offrire ai piloti e riuscendo a organizzare una manifestazione di livello riusciremo a portare anche piloti che non sono soltanto di catania ma o della provincia di catania ma anche indietro del territorio del nostro paese è tutto ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 Grazie a tutti